Per Canzano è un'occasione fondamentale di entrare in un circuito internazionale musicale grazie alle associazioni Luzmec e Dino Marsili che hanno dato questo contributo al nostro paese. L'emozione è unica, è unica perché si parla di musica, si parla di arte, si parla di musica classica. Oggi la musica classica vive con una specie di sortileggio, tutti, noi, anzi la maggior parte della popolazione dice ma io non ascolto musica classica perché non la capisco. Avere la pretesa di capire non è la chiave, basta solo ascoltare, la musica fare il resto, parliamo di arte, vive perché vive. In questo caso saranno dei grandissimi talenti a trovarsi davanti al pubblico, perciò facciamo capire anche la caratura di questo evento. Abbiamo invitato il maestro Achilles Televigne che oggi forse è tra le dieci personalità più rappresentative nel mondo della musica classica, nel panorama mondiale della musica classica. Verrà a Canzano e per cinque giorni farà lezioni a Canzano. Abbiamo ricevuto iscrizioni da tutto il mondo, un ragazzo dalla Cina, una ragazza dalla Russia, dal Belgio, da Israele, da tutta Italia, Firenze, Bologna, Novara, Ascoli, ma anche dalla provincia di Teramo, da un comune come Cermignano, questo per capire che il talento noi ce l'abbiamo anche in casa. Verranno a Canzano, faranno lezioni, vivranno a Canzano, avranno la possibilità di dormire, mangiare e vivere la quotidianità del paese. Ci saranno concerti serali e il concerto finale sarà con la speciale partecipazione della giovane orchestra d'Abruzzo. In particolare poi verrà anche allestita una mostra, una mostra particolare per intanto la sua storia e soprattutto per come verrà proposta. Nel Museo dei Saperi Familiari è stata allestita una mostra paesaggio a cura degli artisti Francesco Franchi, Mauro Di Giuseppe, Marino Mellarangelo e Francesca Casolani, che dà un ulteriore tocco artistico a tutta la Kermesse.